Musica Questa mattina in comune incontro sul progetto Asbestom, mappatura dell'amianto nelle scuole. Il progetto è condotto da Ancitelli in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e Sogesit con il supporto della struttura di missione per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avellino insieme ad Alessandre Pise è una delle città pilota che fanno parte del progetto Asbestom 2.0 amianto in superficie finalizzato alla bonifica degli edifici scolastici. Il censimento avverrà anche con l'ausilio di immagini satellitari. La mappatura interesserà 27 scuole del comune e 56 dell'amministrazione provinciale, 18 delle quali si trovano in città. Il progetto mira ad una mappatura generale di quella che è la presenza di amianto all'interno delle scuole e nelle aree limitrofe e si propone come progetto pilota da poi estendere all'intero territorio nazionale. La mappatura sarà effettuata con l'utilizzo di droni e di altre tecnologie anche satellitari, nonché integrata da rilievi a terra. Lo scopo del progetto è quello di avere un database dell'amianto delle scuole che sarà necessario per integrare il piano nazionale amianto rispetto al quale si potranno ottenere dei finanziamenti anche rispetto alla rimozione di questi eventuali materiali contenenti amianto. Nel frattempo però noi avremo i dati prima delle altre realtà territoriali per cui si potrà accedere a questi finanziamenti che invece prevedono che ci sia questa mappatura a monte della richiesta. Posti di blocco e battute a tappeto, i carabinieri in queste ore hanno serrato la caccia al terzo nigeriano che nella notte tra venerdì e sabato insieme ai suoi due connazionali di 22 a 32 anni si è reso protagonista dell'aggressione alla quarantena evadante ucraina. L'episodio si è verificato in una attraversa di alvanella. La donna ha subito un tentativo di violenza ed è stata derubata dal branco di migranti e alla somma di 50 euro il telefonino. Lo stupro è stato evitato dal provvidenziale intervento di una pattuglia dei carabinieri di Baiano. I militari in transito nella zona, allertati dalle urla della badante, sono riusciti a bloccare e arrestare due dei tre nigeriani. Uno di loro è riuscito a fuggire ed è ora attivamente ricercato dalle forze dell'ordine. Gli investigatori lo avrebbero identificato. L'immigrato era ospite dello stesso centro di accoglienza dove alloggiavano i due profughi finiti in manette. Per il nigeriano, datosi alla fuga, il cerchio si sarebbe stretto. La cattura sembra ormai imminente. Intanto sta meglio, la badante è in stato di sciocco dopo l'attentata da violenza. L'episodio scosso alla comunità di Monteforte, dove comunque sono numerosi migranti che si sono integrati. A caduto di sabato, pur da condannare fermamente a Bertone con i cittadini, non deve rovinare la convivenza con gli ospiti dei centri di accoglienza. Altri però sono più drastici e definiscono invasiva la nutrita presenza di migranti in paese. Il problema è che arrivano sempre di più. Essendo di più è normale che ci può stare qualcuno, qualche testa calda, ma non che tutti sono così, perché ci sono anche ragazzi che non fanno nulla. Però, no, non è cambiato nulla. Continua quindi in qualche modo questo tipo di integrazione? Sì, sì, sì. Siamo all'ora del giorno, tutti questi che arrivano non sa chi arriva, chi non sa chi sono, chi si acconsegna. È una magia. Hai paura? Certo, ci sta paura. Un po' più di sorveglianza, girano di più carabinieri. Però fino ad ora non era successo nulla? No, fino ad ora non era successo niente, nulla di particolare. Però sono sempre convinto che queste persone che arrivano qua bisogna avere un po' più di controllo. Ma io non sono razzista, però purtroppo adesso dove vai? Vai a un bar, ce ne sta uno davanti alla porta. Vai a un supermercato, ce ne sta uno. Dove vai? Vai, è pieno. Come dobbiamo fare con questa gente? Cambia qualcosa per l'amministrazione di Monteforte e Pino dopo questo episodio di tentata violenza nei confronti di una donna. Stiamo attenzionando l'episodio, ma niente di preoccupante, perché la situazione è monitorata. il prefetto ho chiesto, devo chiedere, un incontro giusto per un piccolo controllo in più, ma niente di che, perché la situazione è sotto controllo. Comunque l'integrazione che noi avevamo decise resta tale, perché nei prossimi giorni faremo un tavolo per integrare dei ragazzi a dei lavori di pubblica utilità. Questo per quanto riguarda i progetti, però il numero di migranti a Monteforte si ferma qua, si saranno alternati. Certamente, si è fermato già da tempo e rimane firmo. Ripeto, l'integrazione che faremo con questi ragazzi che hanno volontà è a titolo gratuito per la comunità. Come cercherà di rassicurare la comunità di Monteforte, che magari dopo questo episodio potrebbe avere qualche reazione, qualche atteggiamento diverso nei confronti dei migranti. Devono stare tranquilli. Secondo me non è un episodio che può portare a reazioni forti. È un episodio che bisogna ancora vedere al vaglio degli inquirenti. Quindi al momento il suo appello, la sua raccomandazione ai cittadini di Monteforte è di stare tranquilli, sereni e di mantenere, come hanno fatto finora, un rapporto di cordialità con i migranti. Certamente. Sono ragazzi che devono integrarsi alla vita pubblica. Quel che resta delle case sono degli scheletri. Pareti crollate, macerie per strada. L'antico lavatoio è diventato ricettacolo di rifiuti e rifugio di senza tetto. Dalito restauro, infatti, l'edificio presenta all'esterno pericolose trappole per bambini. Via Ponticelli, la parte alta di Rione Valle, da borgo antico, set di sposi e paesaggisti, ha inquietante scenario da thriller. Un villaggio fantasma dove dell'annunciato intervento di riqualificazione è rimasto solo il tabellone che illustra il programma con date di consegna e delibere per i lavori che risalgono dieci anni fa. È un investimento di circa dieci milioni di euro smarritosi nei meandri di palazzo di città. Stavano restaurando, solamente hanno abbandonato, poi sono andati perché dici che sono finiti i soldi e hanno abbandonato tutto e non so, poi hanno fatto una strada malamente. È tutto rovinato qua. La notte? La notte? Noi ci giurimmo dentro qua. Per paura? Per paura, certo. Perché? Perché sono tanti delinquenti, tante cose succedono. Mi fa paura questi che vanno in giro, che entrano in casa, ammazzano pure, mi hanno ammazzato. I ladri. E quelli. Noi non abbiamo niente, abbiamo aggiornato, però fanno paura. Sì, siamo pieni di ratti comunque, animali di tutte le maniere, nessuno viene nemmeno a pulire. Cioè non ci pensano proprio. Siamo isolati. Questo è un borghetto dell'Ottocento, abbandonato. Se non teniamo la siepe, mettono la siepe e lì la potiamo noi. Peccato perché state poi pure vicini al cenno. Sì, in effetti quando si passa quel ponte si entra in un'altra realtà, però il problema è che siamo abbandonati, quest'altro c'è questa proprietà che non viene mai a pulire, quindi Serpi, quanto è il periodo adesso che comincia ad uscire, c'è di tutto. La sera forse c'è anche un po' di paura, mi dice una signora. Anche, anche, perché poi comunque stanno tutte queste casette isolate e quindi comunque sono zone un pochettino per i ladri, sai com'è, girano tranquillamente. L'antico lavatorio è stato trasformato in una discarica, abbiamo visto materassi. E' stato pure comunque scassato, cioè quello che aveva è stato pure devastato, cioè una cosa pazzesca. E' un peccato perché spesero un casino di soldi. Il centro per l'autismo, come vi dimostriamo, facile preda per ladri e vandali, che già in passato hanno arrecato seri danni alla struttura. Le recensioni e le barriere esterne dell'edificio ormai sono cadute a pezzi e facilmente superabili. E così mentre le istituzioni si limitano allo scaricabarile su fondi e competenze, il centro ormai quasi completato apre le porte, per ora solo ai malintenzionati, per lanciare l'allarme questa mattina. Siamo entrati da uno dei tanti varchi riesi accessibili dal degrado delle recensioni e delle transene che dovrebbero invece blindare la struttura. Una incursione utile a mostrare, documentare e denunciare la mancata protezione di un centro particolarmente sensibile e importante come quello per l'autismo, evidenziare che mentre continua il bla bla bla, gli ambienti dell'edificio sono stati ormai invasi dall'erbaccia e dall'umidità. La stabilità di una delle recensioni è addirittura garantita da una tavola di legno. Un abbandono più volte segnalato dall'AIP. A proposito domenica, la giornata mondiale per l'autismo, una giornata di lutto per l'associazione che segue da sempre le sorti del centro. Il blu dei nastri e delle bandiere che colora l'evento saranno molto probabilmente gli stati a lutto. Intanto Michelangelo Barrecchia attacca Comune Asla. La prima cosa da dire al Comune è che purtroppo dicono tante cose non vere. La prima sull'interrogazione di una consigliera battagliera che si chiama Adriana Percopo è questa. Il collaudo non è stato fatto. Non è vero. A luglio è stato fatto il collaudo dell'intera struttura, si è visto il funzionamento della piscina, il riscaldamento, pensi era luglio e il pavimento era caldissimo. Poi c'è la questione del terreno. È vero che la legge dice che il proprietario del suolo è anche il proprietario di quello che ci sta sopra, ma il Comune non ha messo in moto neanche la procedura ancora. La procedura, cioè come dire un impiegato è autorizzato a fare questo in nome per conto del Comune, cioè l'esproprio, cioè l'acquisizione sanante. L'aslo non ha il senso e la misura del bisogno che c'è, per cui ipotizza dei progetti che non serviranno probabilmente, che pochissimi autistici. Non si rendono conto di chi sono, quanti ne sono, che risposta bisogna dare. Morgante, dirigente generale, ma perché non convoca le famiglie che ci diranno quali sono i reali bisogni? Non si deve fare così. I padrini del territorio devono decidere, ma non è possibile questo. Lo svincolo dell'Ofantina, un salto nel vuoto. Da più di cinque mesi, l'arteria che conduce a San Manguart, i comuni della Valle del Calore, è chiusa al traffico per uno smurtamento. Un percorso a ostacoli obbligato per raggiungere vicino al nucleo industriale l'area PIP. Danni ingenti anche per le comunità collegate dall'arteria. Un gruppo di giovani sanmanghesi, stanchi della promessa, visto che sul ripristino della strada, Cerbuio, più totale, ha scritto al governatore De Lucca, il presidente della provincia Gambacorte e al prefetto Sessa. Mentre in Irpinia, proprio in questi giorni, si parla grazie alla presenza del presidente della regione, i vertici di Confindustria e il presidente dell'ANAC, Cantone, di sviluppo delle aree interne. Rendiamo noto che per molti di noi, operai nella Valle del Calore, è difficile tornare a casa o recarci al lavoro. Insomma, in Irpinia c'è chi già sta stringendo i denti per proteggere questo territorio, parafrasando l'appello di Cantone. Ma toccherebbe anche a enti e istituzioni stringere i tempi per assicurare un futuro possibile ai giovani imprenditori. Una bretella d'oro, l'arteria, realizzata nei primi anni 90, lunga circa 10 km, costata circa 180 miliardi di vecchie lire, 18 miliardi al chilometro, chiusa da 5 mesi per la frana abbandonata. Più volte ci siamo rivolti alle istituzioni, ha sottolineato il sindaco di San Mango sul Calore, Gennaro Uva, per chiedere la messa in sicurezza e la riapertura della strada. Sono le citazioni andate puntualmente a vuoto. Ora non ci resta che appellarci alla procura, come qualche altro primo cittadino della zona ha già fatto. Il futuro e lo sviluppo dell'aria si è fermato a 100 metri dalla frana. Stiamo cercando di sensibilizzare tutte le istituzioni per creare almeno l'apertura dello svingolo di San Mango, che è la parte che frena proprio l'accesso al centro industriale, a Valle, ai paesi di Locosano, Paternove, dove ci sono San Mango, delle cantine che producono. La soluzione tecnicamente non so quale possa essere. Si parla di risanamento magari a monte, che è molto costoso. Io non so se si può fare un risanamento parziale mettendo delle barriere protettive. Abbiamo segnalato in prefettura la protezione civile, come tutti gli altri paesi. Ci sono state anche delle segnalazioni alla procura della Repubblica. Noi abbiamo un centro industriale, quindi non abbiamo nemmeno in prospettiva la possibilità che qualcuno sia interessato a venire da noi, visto la situazione che si crea. Quindi siamo maggiormente penalizzati, perché noi vorremmo che qualche imprenditore fosse interessato al nostro PIP, però con questa situazione sicuramente sarà ancora più penalizzante. Non ci saranno segnali, Sindaco? Lei si troverà costretto a rivolgersi alla procura? Sì, abbiamo anche valutato questa cosa. Per adesso non l'abbiamo ancora fatto, però siccome c'è un problema anche di segnaletica, di problematica, di sicurezza, potremmo fare anche questo. Mentre il comune sociale sembra una patata bollente, il vuoto dell'assistenza viene colmato almeno in parte da poveri e volontari. In città i poveri aiutano i poveri, Rivella Silvana, da anni con Cerardina a servizio degli indigenti, nella cassa di fratellanza, Monsignor Antonio Forte Samane è impegnata nella consigna di indumenti alle famiglie bisognose. Diciamo che sono più le persone indigenti che portano la roba, che le persone benestanti, non i benestanti, ma è stato sempre così nella vita. La vita è così, diciamo che ci si aiuta più tra persone che conoscono il sacrificio della vita e come si lotta per vivere. Diciamo che i benestanti stanno fin troppo bene e non conoscono l'altra faccia della medaglia. Quante persone più o meno hanno bisogno di questi indumenti, di questi vestiari che si volgono a voi? Sono tanti, sono aumentati pure, sì, negli ultimi due o tre anni sono aumentati proprio di tanto. Sono triplicati, non raddoppiati, triplicati proprio. I poveri aiutano i poveri e i volontari aprono il cuore agli indigenti fino ad adottarli. Da Silvana, che da anni seguiva Fernando, il clochard pittore di Avellino, un commovente appello che fine ha fatto il mio Fernando. Io avevo un povero adottato, questo povero si chiama, spero che sia ancora in vita, Fernando. Ci dicevamo sempre, quando ci incontravamo per il corso, abbiamo giusto dieci anni di differenza, quindi dovrebbe avere intorno ai 71-70 anni, questa è l'età che dovrebbe avere Fernando. Io non lo vedo più da molti, molti anni e sono molto rattristata per questo. Era per me un fratello, aveva problemi mentali, non era alcolizzato, molte volte si fermava anche per il corso e parlava con un palo della luce, per esempio, si fermava a parlare con il palo della luce. E poi improvvisamente non l'ha visto più. Improvvisamente non l'ho visto più. Lei lo vorrebbe abbracciare. Io vorrei sapere qualcosa di Fernando, se è vivo vorrei rincontrarlo, perché io lo amo dal profondo dell'anima. Fernando per me è stato proprio un fratello. E poi io spero che sia vivo, ma se non è vivo vorrei sapere dove si trova. Come mai l'è rimasto così tanto nel cuore? Perché era bello, Fernando, era bello dentro l'anima. Voi vi affezionate anche ai poveri, no? Come da volontari, da operatori. Per me sono i miei fratelli. I responsabili delle 20 scuole di danza che da anni usufruiscono del teatro Gesualdo per i saggi di fine anno non sanno ad oggi se tra maggio e giugno i propri allievi potranno svolgere le rappresentazioni. In caso di cancellazione di tali eventi si avranno danni economici per le scuole, ma anche per lo stesso teatro, che perderebbe in troiti per circa 150.000 euro. Una situazione paradossale, considerate quelle che sono le condizioni delle casse del Carlo Gesualdo. Noi, su gennaio e febbraio, abbiamo avuto comunicazione che i saggi si facevano e quindi abbiamo pianificato. Siamo con una quindicina di scuole di danza tra Napoli, Avellino e Benevento. Giustamente, più che scuole di danza siamo delle aziende, quindi se a noi non ci garantiscono a questo punto il saggio a maggio e giugno noi abbiamo grossi, grossi problemi. I miei costi sono standard da anni, se non sbaglio sono 2.500 i giorni di prove e 5.000 euro i giorni dello spettacolo. Penso di non più IVA e più altre spese accessorie, di cui una molto molto importante che sono i vigili del fuoco, perché da statuto il teatro fa 1.300 posti, ci vogliono 10 vigili del fuoco, a 280 euro l'ora, però il teatro è un teatro importante per noi, è un teatro fatto bene. Se a marzo ci bloccano, a aprile ci bloccano i saggi, noi ci dobbiamo cautelare. Parleremo con il commissario, che spero ci dia una possibilità, anche autonomamente, di gestire il teatro, perché ne siamo in grado, sono tutti professionisti. Questa è una vostra proposta? Può essere una vostra proposta, vediamo la disponibilità loro. So che gli operai del teatro non percepiscono stipendio, non so da quanto, da 15 mesi, quindi siamo con loro. Cosa è successo? Lei ha avuto dei problemi con questa persona, perché le ha detto che voleva scopare, come c'è scritto anche nel verbale della denuncia, e niente, poi hanno avuto uno scontro perché lei l'ha difesa. Devi lasciare perdere questa storia che sei musulmana, andiamo a scopare. Le sorelle somale hanno raccontato il lacrime alla polizia, l'aggressione e il pestaggio subito, a loro dire, come si legge nell'esposto, in uno dei bagni del centro sociale di Avellino. Secondo i responsabili di Samatta della Porta, invece, l'episodio sarebbe accaduto fuori. Protagonista delle molestie, secondo la denuncia, un immigrato ospite della casa della fratellanza, Monsignor Antonio Forte, il centro della Caritas, che da me si accoglie anche le due sorelle. Il presunto tentativo di stupro sarebbe avvenuto ieri, in tarda mattinata, l'immigrato, che per due settimane aveva insidiato la maggiore delle due sorelle di 25 anni, è tornato alla carica invitando esplicitamente la ragazza a fare sesso con lui. Si è abbassato i pantaloni ed era pronto ad entrare in azione, a fermarlo l'intervento della sorella minore della vittima di 20 anni, che si è scagliata contro l'uomo. La reazione della ragazza ha scatenato la furia dell'immigrato che ha picchiato le due sorelle. Dopo il pestaggio, l'uomo si è dato alla fuga. Scattato l'allarme sul posto, si sono portati gli agenti di polizia, che hanno raccolto la denuncia delle due sorelle. L'immigrato, dopo pochi minuti, è stato identificato e denunciato. Le due somali sono state accompagnate a pronto soccorso dell'ospedale presso le medicate. Il referto ha diagnosticato che le due giovani hanno riportato traumi e conduzioni in varie parti del corpo. Le somali, dopo una giornata d'inferno, speravano di poter rientrare a dormire nella casa della fratellanza. Ma il pernottamento è stato concesso sulla tarda sera dai responsabili della Caritas, provocando la disperazione delle vittime dell'aggressione, già provate da quanto accaduto nel pomeriggio. Cosa è successo oggi? Stavano aspettando delle persone in Caritas. Poi è arrivata la polizia evidentemente per quello che è successo. E alla Caritas poi hanno detto che loro non potevano più rientrare a dormire all'interno della casa di accoglienza. Poi verso il 23, alla presenza della stampa e l'insistenza dell'Associazione Comunità Accogliente di Mercogliano, gestita da Letizia Monaco, i cancelli si sono aperti per accogliere di nuovo le due... Beh, Letizia fa sempre riferimento a noi. Queste due ragazze ce le ha portate lei nel mese di agosto dell'anno scorso. Quella si chiama casa di accoglienza, di prima accoglienza. Cioè lì dovrebbe stare una persona un mese, 15 giorni, due mesi massimo, e poi trovare un'altra soluzione. Letizia è stata più volte interessata nel trovare soluzioni a queste due ragazze. Oltretutto anche noi abbiamo prospettato a queste ragazze altre alternative. Il problema è che sono convinte lì di essere padrone. La questione non può funzionare così. Le due ragazze impediscono ad altri che chiedono di dormire nella nostra struttura di avere una possibilità. Loro ce l'hanno da agosto. Penso che un'alternativa si possa trovare. Si poteva trovare. Allora, certamente se c'è stato questo episodio di violenza, la magistratura, le indagini andranno avanti. Ma questa cosa non può più funzionare così. Adesso io farò entrare altre persone a dormire. E chi sta lì da tanto tempo, comprese le due ragazze, dovrà trovare un'altra alternativa. Melle, però, si tratta di due giovani vittime anche di una tentata violenza. Questa, la sua, non può essere una scelta discutibile. Ci sono altre persone che sono vittime di pestaggio e che noi abbiamo in carico. Abbiamo in carico, non mettiamo i manifesti quando succedono le cose. Però, quell'episodio di ieri sera è stato un forzare. Cioè, è stato deciso di mettere un punto e quello era un punto per dire basta, basta, perché alcuni episodi succedono perché purtroppo noi deroghiamo le regole perché poi ci facciamo prendere la mano. Se le ragazze hanno subito, figurati. se non sono d'accordo che chi ha sbagliato deve pagare. Ma questo non significa che io devo mettere a rischio altre persone e io devo poi negare la possibilità per altre persone. L'esplosione della bomba carta davanti alla sala cinesca della bottega del Gusto a Via Perriere di fronte al mercatone sarebbe avvenuta subito dopo la mezzanotte. Il boato ha provocato paura e tensione tra i residenti considerando la potenza della deflagrazione qualcuno ha anche temuto per una scossa di terremoto e si è precipitato per strada. La notte è di terrore dovuto al botto della bomba carta di fattura artigianale di piccole dimensioni che ha divelto la parte bassa della sala cinesca lesionando i gradini che accedono all'esercizio commerciale. Sul posto gli agenti della polizia gli uomini della scientifica che hanno effettuato rilievi all'esterno e all'interno del negozio. Gli investigatori per ora non escludono alcuna pista. Il titolare della bottega del Gusto si è detto sorpreso dall'accaduto di non aver mai ricevuto richieste estorsive o minacce. Si tratta di un piccolo negozio specializzato nella vendita di alimentari, dolci, liquori e prodotti tipici. Una Pasqua amara per la bottega del Gusto che ha addobbato la sua vetrina con cesse e prelibatezze per la festa. L'attività però certo non si fermerà e anche stamane nonostante i danni provocati dalla bomba carta la bottega ha aperto i battenti. Dai commercianti di Via Perriere l'appello alle autorità a garantire nella zona più controlli da parte delle forze dell'ordine. La notte da queste parti avvertono è scura e pericolosa. Stiamo un po' abbandonati. L'amministrazione non è che provvede più di tanto. La sera? La sera non si capisce niente. La terra di nessuno. La verità, in effetti. C'è un po' di paura. E questa? Eh ma c'è, non è normale. Non si può cambiare così, insomma non si può vivere in questo modo. Cioè siamo abbandonati da tutti. Beh la sera se non c'era più la forza dell'ordine è chiaro che i malviventi è gente che ha intenzione di fare quelli che ha fatto giù alla bottega del gusto. Succede quello che succede in realtà. Non ci sta più controlli. quindi entro ne escono persone che sono poco affidabili. Con chi la vogliamo pregare. Qua dobbiamo rassegnarci a vivere nel terrore se possiamo dire. La sera notate che c'è una frequentazione. Sì ma poi il fattore delle frequentazioni poi il cambiamento delle luci. Voi avete notato il cambiamento delle luci fatte dal Comune? Quello non si vede niente. Qua una volta spento io se venite stasera se non accendo le luci qua è buio. qua io quando chiudo mi devo stare attento prima di uscire per vedere se fuori ci sta qualche uno. E dal mercatone esce ancora qualcuno? No, al mercatone non ho visto niente. Onestamente al mercatone No, qualche controllo in più nella zona. Ma non solo nella nostra zona perché qua diciamo che alle spalle è Piazza Libertà e quindi siamo quasi uccindro. Ma le altre parti non so come fanno onestamente. Che ci dobbiamo fare? Ci dobbiamo barricare in casa dobbiamo portarci qualche arma addosso. io non so che dobbiamo fare. Io ho l'impressione che questo è tutto a colpa della comunità europea. Non ho nulla col sindaco nulla con la città ma è la comunità europea che dà facoltà di sbarcare tutte le persone che giustamente a metà a metà a metà che hanno bisogno e a metà che secondo me vengono qua a fare vita facile. Questa protesta tra l'altro a pochi metri dal centro di accoglienza di via Molinelle a Monteforte come mai questa iniziativa tra l'altro con le bandiere tricolori? Sì, siamo qui stamattina perché per denunciare l'ennesima aggressione che è avvenuta appunto pochi giorni fa a discapito di una badante che è stata prima aggredita da tre nigeriani che poi solo dopo giorni è uscito allo scoperto il fatto che fossero ospiti comunque di un centro d'accoglienza appunto per tenere a bada gli animi della cittadinanza che comunque ci ha contattato e ci ha chiesto appunto di dare una mano perché si sentono abbandonati fondamentalmente si sentono abbandonati dalle istituzioni perché vedono che comunque cittadini stranieri che vengono aiutati mentre ci sono famiglie italiane specialmente qui a Monteforte che non hanno neanche una casa dove stare e quindi si stanno si stanno ribellando diciamo così a cosa chiedete alle istituzioni? chiediamo comunque prima cosa chiediamo la tutela dei cittadini italiani quindi più sicurezza qui a Monteforte sicuramente e la chiusura anche del centro d'accoglienza perché comunque numericamente sono troppe lo sappiamo che che sono sono in sovrannumero la vostra protesta continuerà oltre il settino di stamane? oltre il settino di stamane saremo anche domani ad Avellino con un banchetto appunto informativo e di protesta per far chiudere i centri d'accoglienza ad Avellino e in tutta la provincia un sogno che si avvera per Rita Losco in cattedra nell'aula magna dell'istituto comprensivo Picella di Porino per raccontare la sua odissea dal podio come campionessa regionale di atletica al tunnel dell'anolesia per Rita l'occasione di presentare il suo libro e dialogare con i ragazzi della scuola per gli alunni oltre alla sua difficile esperienza Rita ha portato caramelle e cuoricini rossi al suo fianco Assunta Sandulle che ha presentato i progetti di un'associazione intitolata Rita Losco un altro sogno per l'ex atleta velinese è di ritornare sulle piste di corsa un altro traguardo da tagliare nella lunga maratona d'handicap è un'occasione davvero unica perché è la prima volta che mi ritrovo a contatto proprio con i bambini i ragazzi e quindi parlare con loro sarà sicuramente molto piacevole anche perché la loro spontaneità può darsi che se mi devono chiedere qualcosa lo fanno con molta molta spontaneità Cosa ti viene da dire a loro? A loro voglio dire che prima di tutto non la voglio presentare come proprio una non li voglio far mettere paura insomma voglio soltanto dire che è una malattia che può colpire tutto e che bisogna mangiare e io per fare un esempio ho portato delle caramelle appunto per evitare che possano pensare che non si mangia insomma Insieme a lei vogliamo fondare un'associazione che io ho dato il suo nome Rita Lusco perché? Lei fondamentalmente mi chiede il perché perché Rita è una grande persona per me purtroppo per la malattia che purtroppo la vede protagonista ha dovuto rinunciare a molti sogni e io sono una che segue molto i sogni e quindi mi piacerebbe che lei realizzasse questo grande sogno che sarebbe quello di ridiventare un atleta ma un giorno un sogno come ha detto Assunta è quello di vederti di nuovo in pista correre sarà possibile di ricorrere arrivare al traguardo fare il segno così di vittoria anche se non c'è la mia mamma lo dedicherò a tutti coloro che mi vogliono bene e anche Assunta grazie